buongiorno buongiorno ci stiamo vestendo e c'è una tempesta di neve sci ai piedi dalla sbarra del pedro valangoso siamo in questo vallone con la neve che sembra bella secondo il mattia è nevicato stanotte se non esce il sole ci facciamo anche una bella sciata la nostra meta mattia con dietro il cazzola arriva un po di nebbia ultimi metri qua davanti abbiamo san giatto wow wow sfigata bene mi sono appena lanciata giù arrotolando per recuperare la GoPro che stava cadendo verso l'infinito e oltre buongiorno 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.